Andrea De Maria, come sono andati i lavori di questa Assemblea? Un'assemblea molto importante, si è discusso di tutti i principali problemi che sono sul tappeto, abbiamo concluso con un voto molto ampio su oltre 500 partecipanti, sono state 11 astensioni e tutti gli altri a favore, su un documento che propone una linea politica condivisa, cui il Partito Democratico di Bologna si muoverà negli appuntamenti dei prossimi mesi. Ecco allora, diciamo, le alleanze? Per quanto riguarda le alleanze, noi il 5 luglio metteremo in campo le priorità programmatiche che il nostro partito propone alla città, al nostro territorio provinciale, su questo verificheremo quali convergenze raccogliere, poniamo un tema ai nostri futuri alleati, e cioè la scelta netta di una cultura di governo che vuol dire anche assumersi pienamente la responsabilità del governo con tutto quello che questo comporta. Linee con Ferati, linee Errani, sono cose sostanziali o no? Ma fra Ferati e Errani c'è stata una discussione, per quanto riguarda il nostro partito a Bologna, noi usciamo con una linea ampiamente unitaria, condivisa, in un clima di coesione, di solidarietà, una linea chiara, che su tutti i temi principali, il programma, le alleanze, le primarie, dice cosa vogliamo fare, su questa linea si muoveremo già nei prossimi giorni. Quanto riguarda la candidatura del sindaco? Io ho spiegato qui che lo scorso 23 aprile ho chiesto al sindaco la disponibilità di candidarsi e che ritengo questa la scelta più giusta per Bologna, più giusta per il PD, siamo in attesa che il sindaco sciolga una sua legittima perplessità che riguarda la sua vita familiare, appena avrà sciolto questa riserva sapremo se il sindaco si ricandiderà. Ovviamente a quel punto se qualcuno vorrà avanzare nel PD candidatura alternative potrà fare a norma del nostro statuto e si faranno le elezioni.